15 anni accoltellato da bevi criminali nel centro storico di Napoli, si la caverà in sette giorni, mi hanno aggredito senza una ragione, racconta. Incastrati dalle telecamere presi due giovanissimi autori di una rapina a Napoli, tre mesi fa minacciarono un coetaneo con il coltello. Ancora sotto sequestro i binari della metro dopo l'incidente di martedì, trasporto in sofferenza a NM e Comune in cerca di soluzioni. Pochi collaboratori scolastici in attesa si sblocchi, l'avvertenza ex LSU, orario delle lezioni ridotto in molte scuole della regione. La nostra Champions vincere domani, Gattuso carica Iazzurri per l'anticipo del San Paolo contro la Fiorentina. In arrivo intanto a giugno dal Verona il difensore Amir Rahami. Buon poveriggio, ben trovati, lo avete sentito ancora un branco di bevi criminali in azione a Napoli, in quattro senza alcuna ragione. Hanno accoltellato un quindicenne ieri seguana. La vittima è in buone condizioni, ma resta tutta la gravità dell'episodio e del fenomeno. Michele Giordano. Michele Giordano.